ciao a tutti ragazzi io sono riccardo e bentornati al canale dell'apps oggi abbiamo mirko che ci presenterà un nuovo gioco che è il gioco di gioco di miniature della gpu e ambientale popolo americano ambientazione uram e fantasy oggi faremo l'unboxing della second edition uscita nel 2020 con un nuovo anche regolamento aggiornato continuate a seguirci per vedere il nostro unboxing questa è la scatola del set base contenente umani imperiali black hawk a vedere il contenuto della scatola con le fustelle verdi che sono tutte le squadre di black hawk da montare con tutti i componenti c'è anche il troll e uno star player speciale colore rosso sono la squadra degli stella blu è una chicca speciale solo di questa scatola base gli albitri elfo l'albitro elfo l'albitro elfo e l'albitro nano da montare tutti eventuali segnalini per lancio diri quando esce la palla fuori dal campo e quando rimbalza la palla c'è il suo stesso da assemblare un poster gioco che è da due fust dietro c'è tutte le squadre uscite con questa prima edizione questa seconda edizione in gioco dali verdi che sono dei black hawk dali rossi che sono dei umani dei belli nobili le basette per le minature le istituzioni come montaggio delle minature i dati silvi i dati silvi per le minature poi andremo ad aprire il regolamento nuovo regolamento bubble seconda edizione final 2020 cartonato andremo ad aprire insieme un composto di strumento regolaria sottile regolaria sottile regolaria sottile regolaria sottile regolaria sottile vostro troppo elegolario il nuovo regolamento caldo tutto練anzo che andremo adesso a vedere. Questa è la domanda. Se volete iniziare a giocare la Blood Bowl, consiglio vivamente questa prima dizione da dividere con un amico, essendoci due squadre complete con tutto il campo, regolamento e tutto il lato. Ok, se il video vi è piaciuto allora pollice in su, commentate, ci vediamo nei prossimi video e mi raccomando la campanella e le notifiche qua in fondo e seguiteci sulle nostre pagine social che sono Instagram e Facebook. Calmando, condividetemi i vostri amici, parenti, madri, pari, sorelle, anche orchi, mezzorchi, quello che volete. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!